cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago benvenuti al meteo colpo di coda dell'inverno che torna protagonista sul nostro territorio si apre una fase con tempo tutto sommato buono ma clima più freddo il dettaglio di domenica 26 febbraio sul veneto nuvolosità irregolare alternata a spazi di sereno prevarrà comunque il sole non si escludono dei deboli piovaschi specie sulle zone meridionali della regione entro sera bora in pianura su coste zone limitrofe limite delle nevicate in abbassamento fino a quote collinari temperature in calo minime tra lo 0 e i 3 gradi massime tra 7 e 10 gradi spostiamoci ora sul friuli venezia giulia cielo irregolarmente nuvoloso con vento sostenuto o forte da nord est su gran parte della regione sul carso non escluse anche delle deboli nevicate temperature minime tra 1 e 3 gradi massime sui 7 9 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige dove è previsto bel tempo con annuvolamenti a tratti e con venti settentrionali moderati o localmente anche forti temperature minime intorno a un grado massime sui 6 8 gradi all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto arrivederci al prossimo aggiornamento cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre basiliche e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago di quanto riguarda il mondo è stato un grado di palazzo 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 di